Ok, vai, 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 vai È arrivato il momento elettronico, ok È dura! Ma è la che? È tutta ? Acquario Gemelli Ariete La Complainere Si chiama La Complainere Abbiamo preso La Complainere Ciao, sono Albertino Stai ascoltando Il momento elettronico Con Maurizio Rossato Lucristiano Che bombe Maurizio Si nota o si imbrota? E' tutto in brodine Bella questa E prendiamola a complainere Avviva! Avviva! Ami, metti anche i pink Insomma, rivisitati Unito 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 Bella questa Sono il padroncino sul furgoncino Ah questa invece siccome sono vecchio l'ho scelta io Ciao, vini spesso qui Ma tu conosci Jump dei Van Allen? Eh? Devilly Roth Devilly Roth Roth Oh yeah